Musica Varata la prima di una corposa e articolata serie di iniziative tese a sensibilizzare la cittadinanza sulle varie tematiche sociali considerate ad alto impatto. L'amministrazione comunale intende attraverso una serie di messaggi comunicativi elementari ad effetto indirizzare la cittadinanza verso il rispetto delle regole e dei sani principi democratici. Il primo target sicuramente è difficile da essere centrato, ma è indispensabile concentrarsi per il suo buon fine. Una serie di pubblici manifesti, ai quali presto potrebbe seguire anche un comunicato audiovisivo da distribuire ai vari media locali, invita la cittadinanza a non evadere i tributi, sottraendo i servizi ai più bisognosi, costringendo i più onesti a pagare di più. Uno slogan semplice, chiaro, lapidario, ma di sicuro effetto. L'amministrazione Mauri intende toccare le corde della sensibilità dei cittadini utenti sulla tematica dei tributi, per riassestare le asfitiche casse dell'ente, ma soprattutto intende continuare con una politica molto incisiva di rilevazione e censimento degli immobili attraverso la società abruzzese della Soget, per stanare gli evasori tributari, per alleviare la pressione tributaria a quei cittadini che negli anni hanno maggiormente contribuito al mantenimento della politica fiscale dell'ente. E a proposito, ascoltiamo l'assessore Sorrentino. È un diritto costituzionalmente garantito, quello dell'equità fiscale, pagare in proporzione a quello che si possiede, al reddito che si produce. E noi ci teniamo a che i cittadini angresi, tutti, possano contribuire, secondo la loro capacità, a rendere i servizi alla nostra collettività. È chiaro che c'è chi è sempre stato tartassato nel corso degli anni, chi invece l'ha fatta franca, però a noi non sembra giusto. Abbiamo voluto mandare avanti questa politica di equità fiscale perché non è giusto che c'è gente che paga in modo rispettoso tutto quello che gli viene recapitato, c'è invece gente che in un modo o nell'altro cerca di farla franca e quindi non ci è sembrato giusto. Abbiamo voluto iniziare con questa opera di sensibilizzazione proprio per cercare di trasmettere a tutti quelli che magari sono un attimino distratti per quanto riguarda il versamento dei tributi all'ente comunale, di ricordarglielo in modo imparziale, però poi giustamente in avanti ci saranno anche delle raccomandazioni più forti. e penso al programma che abbiamo cominciato con la SOGET dove stiamo avviando una fase di, per quanto riguarda la SOGET, una fase di censimento che però sfocerà nell'accertamento da parte dell'ente perché vogliamo che tutti paghino in modo giusto e quindi nei prossimi giorni, se non avete già ricevuto una visita da parte di operatori della SOGET, li riceverete perché verranno materialmente a misurarvi le abitazioni per poter calcolare giustamente la tassa per quanto riguarda la Tarsu e quando riguarda l'ICI quando era dovuta fino al 2008. Grazie per la visione! Grazie a tutti!